Come invasa dai turisti, Tempio Voltiano chiuso a Pasqua e aperto lunedì dell'Angelo, ma visitabile soltanto con prenotazione. Dallo scorso mese di novembre, infatti, il malfunzionamento dell'impianto termico dell'edificio, conciso con il calo drastico delle temperature, ha portato l'amministrazione comunale a intraprendere nuove misure di accesso al mausoleo dedicato ad Alessandro Volta. L'accesso al Tempio avviene dunque con prenotazione obbligatoria entro le 48 ore precedenti la visita, prenotazione che può essere fatta recandosi direttamente all'infopoint del broletto o inviando una mail a infopoint.como.it. Le visite saranno possibili nei giorni consueti, da martedì a domenica, dalle 10 alle 17, quindi se non ci saranno prenotazioni il museo resterà chiuso. A dettare i tempi per il ritorno alle visite regolari nel mausoleo dedicato a Volta, senza più bisogno della prenotazione anticipata, è l'assessore alla cultura di Palazzo Cernezzi, Enrico Colombo, che spiega a fine mese, tra il 20 e il 28 aprile, il tempio tornerà liberamente fruibile senza più prenotazioni. L'assessore inoltre annuncia l'arrivo di una mostra che sarà allestita all'interno del museo.